In consiglio regionale oggi si è discusso di taglie e soppressioni in Molise, sollecitato l'intervento urgente del Presidente della Giunta al Governo nazionale. L'avvio di un'area di crisi non complessa nel Basso Molise, la riconversione produttiva sono le possibili soluzioni per salvare lo zuccherificio di Termoli dal fallimento. I giovani scout di Campobasso scendono in campo per difendere la Biblioteca Albino del Capoluogo, oggi una manifestazione in via D'Amato. In Molise pille in crescita dello 0,3%, è emerso soprattutto questo durante la presentazione del rapporto della Banca d'Italia sull'economia della Regione. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Il Molise è verso lo smantellamento, si è parlato di questo stamani in consiglio regionale durante la discussione di mozioni e di ordine del giorno a tutela della legalità. Sentiamo. Un Molise che pian piano sta perdendo la sua identità, che rischia l'impoverimento e le infiltrazioni malavitose. Un Molise nelle mani di un governo che con tagli ed accorpamenti sta privando la Regione della sua autonomia. A Palazzo Moffa questa mattina i lavori si sono aperti discutendo dell'importanza di assumere iniziative per scongiurare tutta una serie di decisioni. Non da ultima la paventata soppressione del Comando regionale dei Carabinieri, una cancellazione che richiamerebbe a catena quella di altri presidi di forze dell'ordine, mentre nel contempo si chiede il potenziamento delle stesse. Un argomento al centro dell'ordine del giorno, presentato dai consiglieri di minoranza Iorio, Fusco Cavaliere e Sabusco, ed inserito tra i punti in discussione con la sollecitazione del Presidente della Giunta regionale del Molise ad intervenire presso le autorità governative e ministeriali competenti per scongiurare che il presidio dell'arma venga cancellato. Unificati poi la mozione del consigliere Petraroi e l'ordine del giorno a firma del consigliere Di Pietro. La prima concernente è la presenza sul territorio regionale dei collaboratori di giustizia o condannati agli arresti domiciliari per riatti gravi provenienti da altri territori. Il secondo è inteso ad impegnare ancora la Giunta regionale a sensibilizzare il Governo, il Ministero dell'Interno e del Capo della Polizia rispetto alla carenza di personale e risorse proprio della Polizia dello Stato in Molise. E la mozione e l'ordine del giorno a tutela della legalità presentati dai consiglieri Cristiano Di Pietro e Michele Petraroi approvati a maggioranza dall'assise di Palazzo Moffa. Continueremo a difendere il nostro territorio dagli attacchi provenienti dal Governo centrale. Ha ribadito il capogruppo di Molise e di tutti Di Pietro pronti a discutere con il Premier Renzi in occasione della firma del patto per il Sud della garanzia di mantenere i presidi di legalità e sicurezza sul territorio molisano. Va posta al Governo la questione dei bossi, invece il commento del consigliere Petraroi ha inviati sotto programma di protezione molise per le implicazioni connesse di ogni ordine, tipologia o causa. Il persistere e l'accentuarsi del fenomeno di arresti domiciliari da scontare in regione e in particolare nell'area Venafravan di soggetti perseguitati per reati gravi rappresenta una pratica nefasta che va bloccata tempestivamente. E cambiamo argomento. Pressing dei sindacati sul Governo nazionale per l'avvio di un'area di crisi non complessa sulla riviera Adriatica, un'opportunità per salvare dal fallimento lo zuccherificio di Termoli. Individuare percorsi finalizzati a dare continuità alla produzione di zucchero e tutela occupazionale ai circa 200 dipendenti dello zuccherificio di Termoli questo chiedono a gran voce i lavoratori del sito industriale e al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Al centro la pesante situazione in cui versa lo stabilimento e la crisi nazionale del comparto bieticolo saccarifero eppure lo zuccherificio costituisce un patrimonio economico significativo della Regione capace di creare un indotto che si avvicina alle 500 unità e centinaia di piccole aziende agricole nell'intero bacino bieticolo meridionale. Le forze sindacali invitano quindi il Governo italiano a trovare le risposte utili al mantenimento della produzione della fabbrica termolese a fronte di una recessione del settore saccarifero che perdura da anni. Tra le varie iniziative individuate nella Capitale la settimana scorsa la costituzione di un'area di crisi non complessa per l'area costiera che potrebbe rappresentare un presupposto per il rilancio e la riconversione dello zuccherificio. Il personale dipendente chiede di avviare un tavolo di confronto con il Ministero delle Politiche Agricole e le parti sociali con l'auspicio di riuscire a mantenere una realtà oggi fortemente in bilico sul fronte della vendita dello zuccherificio le numerose e quante inutili aste non hanno visto l'interesse di alcun imprenditore. L'idea sarebbe quindi da parte del Governo nazionale di mettere in campo una sinergia a volta a favorire le condizioni per la riconversione produttiva e garantire dall'altro la tutela del lavoro. Difesa della Biblioteca Provinciale Pasquale Albino di Campobasso si muovono anche giovani scout del Capoluogo per conservare un patrimonio di storia e cultura. Il gruppo scoutagesci di Campobasso interviene sulla vicenda della Biblioteca Provinciale Albino di Via D'Amato del Capoluogo. Nel sitino i giovani spiegano l'utilità socioculturale della struttura ma intanto resta in forza il passaggio a Biblioteca Nazionale. Il nostro lavoro parte dalla fine del 2015 quando noi attraverso varie riunioni ci siamo posti delle domande riguardanti le problematiche della nostra città. Questo ci ha portato ad analizzare nello specifico la situazione della biblioteca che da due anni a questa parte non sta vivendo un momento diciamo rosio che attualmente dovrebbe passare a Biblioteca Nazionale. E quindi appunto perché la situazione di questa biblioteca non è delle migliori noi appunto ci siamo interessati proprio perché attraverso uno strumento che noi scout chiamiamo capitolo che ha la funzione di svolgersi in tre fasi che sono le fasi del vedere, giudicare e agire nel vedere appunto andiamo ad analizzare le problematiche appunto delle strutture che ci sono nella città nel giudicare andiamo appunto a dare un giudizio sulle situazioni attuali e nell'agire appunto di dare un messaggio alla realtà moderna alla realtà attuale attraverso l'agire per far sentire appunto la nostra voce contro questa situazione attuale. E noi vogliamo riavere la biblioteca come era un tempo ovvero dove non solo si poteva venire a studiare ma anche dove ci sono incontri appunto socioculturali o altre attività che non sono solo inerenti allo studio o alla conservazione dei libri. La proposta è quella di non abbandonare la biblioteca solamente a funzione di biblioteca statale quindi come la biblioteca con la funzione di conservare i libri ma la proposta è quella di essenzialmente rivolta alle istituzioni che chiediamo di preoccuparsi di questo aspetto socioculturale e quindi di quelle iniziative che ad esempio come ti racconto un libro che verrebbe meno nel momento in cui la biblioteca diventa biblioteca nazionale quindi è di non abbandonare le attività socioculturali della biblioteca che non sono più di competenza di una biblioteca nazionale ma che dovrebbero essere di competenza delle istituzioni Sarebbero dovute diventare competenza della regione ma la regione è venuta meno a questo incarico Il sindacato Will denuncia le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli addetti al servizio di pulizia e al comune di Termoli l'azienda La Lucentezza non pagherà al personale le retribuzioni mensili fino a quando l'amministrazione di Palazzo Sant'Antonio non salderà i suoi debiti Assistere al perseverare di comportamenti come quelli messi in atto dalla società e dal comune è diventato insostenibile per i lavoratori Tutte le forze sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale pronto a manifestare qualora la situazione non venisse subito sanata Da domani al via al porto di Termoli la raccolta differenziata porta a porta tutte le utenze sono già state dotate degli specifici contenitori Il servizio sarà effettuato tutti i giorni secondo il calendario indicato Soltanto gli operatori della pesca e del mercato ittico potranno conferire rifiuti nell'isola ecologica situata vicino ai cantieri navali che sarà a loro uso esclusivo Nel 2015 l'attività economica in Molise è levemente aumentata In quasi tutti i settori il PIL in crescita dello 0,3% Questo è il dato centrale emerso dall'incontro dedicato alla stampa per illustrare il rapporto dei dirigenti della Banca d'Italia sull'economia del Molise Ci sono significative e positive novità nel rapporto sull'economia del Molise debitamente anticipato ai giornalisti dai dirigenti della filiale di Campobasso della Banca d'Italia Rapporto proposto ufficialmente nel pomeriggio alle istituzioni e alle parti sociali e imprenditoriali della regione all'aula del centro servizi culturali Colozza dell'Unimol Dai dati appunto a disposizione del 2015 emerge una lieve crescita Secondo i dati di Prometea il PIL in regione è cresciuto nel 2015 dello 0,3% e assistiamo a una moderata crescita sia dei consumi sia degli investimenti Il fatturato dell'industria è aumentato in particolar modo per quanto riguarda la chimica, l'automotive e l'alimentare C'è da dire però che questo miglioramento non si è esteso a tutti i settori Possiamo parlare di un Molise a due velocità sia per i settori sia per le diverse aree della regione in quanto a questi risultati positivi fanno da contrapunto delle aree di crisi dove la crisi è presente da lungo tempo nelle aree interne della regione e in particolare nei comparti a Vicolo a Campobasso e nell'abbigliamento e metalmeccanico nella provincia di Isernia In relazione al protrarsi della crisi e alle pesanti ricadute occupazionali è stata chiesta dalle regioni il riconoscimento di area di crisi complessa Il Ministero dello Sviluppo Economico nell'agosto 2015 ha riconosciuto tale area e pertanto saranno possibili dei programmi che condurranno a una riqualificazione industriale in questa zona È una zona molto estesa che riguarda oltre il 50% della popolazione e delle industrie Passando agli altri settori, nelle costruzioni permane la situazione di crisi mentre abbiamo dei segnali positivi nei servizi grazie all'aumento dei consumi delle famiglie e nel turismo anche qui dopo anni di calo si è assistito a un aumento delle presenze in particolare di turisti italiani Con l'abolizione delle tasse sulla prima casa i molisani hanno risparmiato circa 200 euro ma l'intero sistema di tassazione degli immobili deve essere rivisto Ridurre le tasse e sostenere politiche di crescita e sviluppo possono rimettere in moto i consumi molise come nel resto della penisola Per questo abbiamo trovato condivisibile l'intervento che ha abolito la Tasi per la prima casa sostengono i sindacati Intanto fra 48 ore oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale dovranno pagare l'acconto dell'Imu Tasi Questi dati che emergono dal rapporto nazionale del Servizio Politico e Territoriale Will Il costo per una seconda casa a disposizione a Campobasso sarà mediamente pari a 1.022 euro A Disernia 898 Per un secondo immobile nel capologo di regione si pagheranno mediamente 47 euro mentre a Disernia 55 Ma quanto hanno risparmiato i molisani dall'abolizione delle tasse sulla prima casa? Poco più di 200 euro La contraddizione è che per la prima casa si è risparmiato poco mentre per la seconda gli italiani saranno costretti a pagare una cifra molto alta e a farlo sono spesso pensionati e famiglie con redditi limitati I contribuenti però vivono in condizioni sociali molto differenziate Le condizioni economiche dei proprietari di immobili adibiti a prima abitazione non sono uguali per tutti così come non lo sono per coloro che hanno una seconda casa Per queste condizioni particolari lo Stato dovrebbe tenere maggior conto Alleviare il peso della fiscalità per le persone meno abbienti e chiedere un contributo maggiore a chi ha più disponibilità a partire da una revisione dei criteri che regolano i valori catastali improntata a criteri di equità La richiesta delle organizzazioni sindacali molisane Gli agenti del corpo forestale di Isernia hanno accertato in tutta la provincia nelle ultime settimane 36 violazioni amministrative che hanno riguardato il mancato rispetto delle norme sui tagli dei boschi Le attività di controllo degli agenti sono state mirate anche al contrasto dei furti di legna fenomeno questo che degrada l'ambiente e impoverisce le foreste A Boiano la minoranza consigliare apre alla giunta del sindaco Marco Di Biase unire gli intenti e non ne dividere per risolvere i problemi della comunità matesina Il gruppo politico di minoranza Boiano Domani apre alla nuova amministrazione comunale matesina uscita fuori dal voto popolare di domenica scorsa un'apertura alla neo giunta guidata dal primo cittadino Marco Di Biase sui temi caldi che assillano la comunità bifernina a partire dal rilancio della filiera vicola che gravita attorno alla gamma di Monteverde e l'assorbimento di tutta la forza al lavoro Ma di interesse generale per la cittadina di Boiano ci sono anche le questioni che riguardano le altre attività industriali in loco La questione della tutela ambientale e paesaggistica il polo scolastico e la creazione del parco nazionale del Matese un'idea quest'ultima carezzata da tempo per valorizzare a fini turistici l'intero comprensorio che parte da Sepino fino a Castelpetroso ma sulla quale le istituzioni preposte ancora nicchiano la collaborazione si legge nella nota espressa da Romano Spina e Perrella è quella di dare risposte e non chiacchiere alle emergenze sociali e occupazionali della realtà boianese argomenti che devono unire e non dividere l'intero consiglio a Palazzo San Francesco Ed intanto il sindaco di Boiano Marco Di Biase ha prorogato in municipio gli incarichi ai dirigenti del settore affari generali urbanistica per evitare la paralisi della vita amministrativa incarichi assunti da Domenico Nucci e Bernardino Primiani La sezione di Campobasso dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha organizzato un incontro con gli operatori del 118 per una iniziativa formativa sulle attività di pronto intervento in caso di necessità Il BLS Basic Life Support è l'insieme di procedure da attivare per salvare in caso di necessità la vita umana in pratica sono quelle manovre da effettuare per prestare un intervento immediato a tutela della salute delle persone e dei bambini in particolare Ed oggi si è parlato di BLS in un incontro formativo destinato agli appartenenti della sezione di Campobasso dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato tenuto da medici e operatori del 118 Molise alla sala Rosarno della Questura del Capoluogo di Regione Per noi del 118 è fondamentale formare le persone che in attesa del nostro arrivo del soccorso che arriva sul posto, le persone presenti all'evento riescono a fare qualcosa immediatamente I primi minuti nel soccorso sono fondamentali perché sappiamo bene che una persona che per 4-5 minuti non respira può andare in conto ad un arresto cardiaco Quindi arresto cardiaco significa mancanza di ossigeno al cervello quindi danni cerebrali irreversibili Quindi è importante che la stante, colui che assiste all'evento, sappia fare delle manovre salva vita in attesa dei soccorsi La giornata di oggi è stata dedicata alla disostruzione delle vie aeree sia nell'adulto ma in particolare nei bambini Molte di queste persone sono nonni e quindi hanno il timore che a vento loro, spesso loro assistono i bambini, fanno anche da babysitter perché essendo in pensione possono trovarsi di fronte ad un evento in cui il bambino sta per soffocare E' importante saper mettere in atto queste manovre perché nei primi minuti se noi riusciamo a disostruire le vie aeree sicuramente riusciamo a salvare la vita al bambino perché la disostruzione significa risolvere il problema e far sì che il bambino respiri di nuovo in modo autonome e non vada incontro e arresto cardio e a danni cerebrali che possono essere irreversibili se per alcuni minuti il cervello non riceve ossigeno Quindi è importante questa manovra che venga effettuata immediatamente Spesso l'ambulanza non riesce ad arrivare in pochi minuti perché sappiamo bene che l'organizzazione del nostro servizio non sempre riesce a garantire l'arrivo immediato dei soccorsi Quindi è importante che la standa che assista all'evento inizia le manovre in attesa dei soccorsi Con l'estate alle porte torna a Termoli il servizio gratuito degli autobus navette per accompagnare turisti e residenti al mare Prenderà il via sabato 18 e per gli ultimi due fine settimana del mese prevede la disponibilità di due navette che collegheranno il parcheggio del cimitero con il lungomare nord dalle 8.30 alle 19.20 con corse ogni 20 minuti E domani alle 19.15 alla Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso verranno eseguite per la prima volta alcune opere musicali del maestro Amedeo Trivisonno L'iniziativa è stata ideata dal Comitato Trivisonno in collaborazione con la corale polifonica Trinitas E passiamo ora alle previsioni del tempo Parzialmente nuvoloso il cielo nella prima parte di oggi sul Molise stellato dalla sera le temperature sono compresse tra i 15 gradi di Campobasso e la massima di 27 a Termoli ventilazione sud-occidentale quasi calmo il medio adriatico domattina sulla regione è previsto tempo soleggiato ovunque valori climatici stazionari venti meridionali Dopo Favo, Provenza e Novelli si allunga la lista degli allenatori papabili alla panchina del campo basso per la prossima stagione calcistica in caso di partenza di nuovo dalla Serie D l'imprenditore salernitano Agnello Aliberti sarebbe pronto a scommettere su Salvatore Fresi, ex calciatore di Inter, Napoli e Juventus ad Agnone intanto la società Granata sta valutando le richieste economiche di Pino Di Meo e Antonio Dell'Oio la coppia di tecnici capaci di salvare l'Olimpia dalla retrocessione nell'ultima stagione Nelle Marche a Corridonia la ciclista di Santa Croce di Maiano Noemi Eremita ha primeggiato tra le donne nel percorso lungo 29 km la giovane ciclista molisana è cresciuta nel vivaio della Garofalo Mobili e con questa notizia si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci Grazie 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 Grazie